La questione promozione diretta non è ancora chiara. Del treno playoff, poi, non si conosce neppure il binario. La Lega Pro per direttissime è un discorso sempre a tre, che potrebbe ridursi a due voci dopo il prossimo turno, lo scontro diretto tra Cavese e Siracusa, e il match in cui tutto potrebbe decidersi o rimettersi in discussione. Tra le due sfidanti a godere potrebbe essere il terzo incomodo, frattese, che dopo aver perso la chance controsorpasso nel recupero di Aversa, proverà a sfilare davanti a tutti sul campo del roccella. Tutto questo mentre in zona playoff, Vibonese a Reggio Due Torri e la stessa Aversa Normanna, si giocheranno le uniche due poltroni disponibili per accedere tra i prof dalla porta di servizio con un eventuale ripescaggio. Nessuno delle quattro contendenti ha il posto assicurato. Domenica potrebbe prenotarlo, però la Vibonese, che dopo i due stop consecutivi non può permettersi altri passi falsi. I rosso-blu di Gaetano Di Maria si giocheranno gran parte della stagione sul campo della Leonfortese. Squadra precipitata in zona play-out, a secco di vittorie da 11 turni, ma in battuta davanti al suo pubblico da otto giornate. Più o meno lo stesso grado di difficoltà che attende la regina di Cicciocozza in quel dinotto. Il turno di riposo ha sorriso agli Amaranto, ma non si può sempre sperare nelle disgrazie altrui, anche perché il Due Torri spinge e la Versa vuole recuperare. I siciliani sfideranno a domicilio la Palmese, mentre i campani potranno sfruttare il jolly scordia. Alessio Bonpasso per la CNews24.